Buona domenica a tutti, è la giornata, la domenica della parola, indetta dal Papa per sottolineare il grande valore della parola di Dio per la nostra vita. Permettetevi in questo momento un discorso molto serio, è stata una settimana dal punto di vista sociale e politico finanziario straordinaria sia in Italia che nel mondo, di fatti avete saputo tutti, avete seguito le vicende di questi giorni, la Nike ha firmato un nuovo modello di calzature, di scarpe da ginnastica soprattutto per i ragazzi che sono il sogno di tutti gli adulti e code di adolescenti fino alle 4 del mattino aspettavano nei grandi store la possibilità di acquistare queste scarpe. La parola di Dio ha una caratteristica molto simpatica per chi viene messa con una certa fretta, le sono letture molto brevi, in realtà il loro contenuto, ho smesso di fare ironia, è un contenuto molto bello, molto serio. Giona predica e Ninive la grandissima città si converte. In realtà la storia di Giona è più sottile perché Giona di per sé non vorrebbe andarci. Leggete il libro e vi accorgerete a quale livello di autocritica erano arrivati i fratelli ebrei nei confronti di se stessi quando dimenticavano che Dio è creatore di tutti, che Dio è infinitamente buono e misericordioso, che Dio ama i popoli, gli stranieri sono i suoi figli, che Dio perdona e porta la misericordia e entra nel cuore delle persone. Ma la seconda lettura a San Paolo in una dimensione fortemente scatologica ci mette risalto che le cose di questo mondo passano e quindi bisogna attaccarsi a quelle che rimangono sempre. Ma senz'altro la parte del leone, come si suol dire, non solo perché il Vangelo di Marco la fa la pagina del Vangelo brevissima, che però contiene due insegnamenti fondamentali. Il primo, assistiamo alla prima predica di Gesù. Predica molto essenziale, accompagnata da segni e prodigi. convertitevi, prima parte della predica e credite al Vangelo, seconda parte, quindi c'è qualcosa di grande da lasciare. Lasciare metanoiete, cambiate testa, non va bene la testa che usate, non usate la testa del mondo e cambiate, convertitevi. Credite al Vangelo, diventerete possessori del tesoro più straordinario per la vita di un uomo, che è il Vangelo vivente di Gesù Cristo. Ma se questa è la prima parte del brano evangelico, la seconda invece riguarda la chiamata dei discepoli. Adesso io dovrei farvi un predicozzo, dovrei farvi un predicozzo sul fatto che siamo tutti chiamati e tutti inviati, che tutta la chiesa è missionaria, che dipende dall'esempio delle dute. Basta, questo modo di parlare non serve più. L'abbiamo già fatto circa, io questa predica l'ho fatta circa 18.425 volte con parecchie allusioni. E adesso vi invito, prima di andare a messa o di preparare la tavola per il pranzo, guardate questo filmato che segue, è di questo che parleremo nei prossimi trent'anni. Spero di esserci ancora con voi, buona domenica a tutti. Una tua storia. Dario Reda, insegnante di educazione fisica? Possiamo dire due vite, c'è sempre un primo e un dopo. Allora, era il 2015, era il 2015 e io, come tutte le volte che giocava l'Inter, mi stavo incuriosendo e stavo facendo dei gesti scaramantici perché l'Inter vincesse e perché Adriano segnasse. A un certo punto fa qualcosa che non aveva mai fatto prima, cioè dopo un gol alza la maglietta dell'Inter, cerca la telecamera e fa vedere una maglietta sotto la maglia da gioco e c'era scritto Filippesi 4.13. Ecco qua, consideriamo che, attenzione, tu non sapevi neanche di cosa si parlase perché sei vissuto in una famiglia, non sei stato battezzato rettieri il tuo fratello, sei su una famiglia di non credenti, anche se nonna queste nonne meravigliose. Poi lui dice perché? Papa Francesco insiste sulle nonne. Se non ci fossero le nonne, io penso che questo mondo non andrebbe avanti. Però te non avevi mai saputo niente, insomma non sei vissuto all'ombra della fede. Però quel giorno, purché vincesse il tuo Adriano, tu un pensiero a Dio lo fai, è vero? Sì, mi sono rivolto a un Dio nel modo in cui magari i calciatori però si rivolgono al cielo quando entrano in campo, si fanno il segno della croce, è quasi un gesto scaramatico più che un gesto di fede. Cioè non avevi l'idea di Dio fino a quel momento? Assolutamente no. C'era mia nonna che cercava di inculcalmerla in testa, dicendo dai preghiamo assieme diciamo il Padre nostro, diciamo l'Ave Maria, ma in realtà non mi interessava più di tanto, se non per un secondo fine che più avanti è diventato voglio diventare un calciatore, quindi prego perché Adriano prega. Ecco, ecco, che cosa succede ad un certo punto? Questo Filippisi ti resta in testa? Mi resta in testa tanto che chiedo alla mia professoressa di religione di spiegarmi il motivo di quella scritta, mi ha detto sì è la lettera di San Paolo, cercala sulla Bibbia, il significato di quella frase che Adriano vuole dire, la trovo nella Bibbia che mi ha dato mia nonna, tutto posso in colui che mi dà la forza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. E questa roba ti resta nel cuore? Beh sì. E sta lì, poi dopo? Rimane lì, lavora di nascosto fino alla quarta superiore, quindi quattro anni dopo, quando incontro una ragazza e parlando assieme per motivi anche lì molto strani, mi porta a Dario, vieni a messa con me perché mi fai compagnia, stiamo assieme e io per stare con lei lo facevo volentieri. Quindi per amore, un amore bello di quella che tu dici. E allora uno se c'è la gioia dentro, la vuole condividere, Irene se non mi sbaglio, Irene è innamorata di Dio, scout, animatrice in parrocchia, la vita dell'oratore, insomma ti trascina. Assolutamente sì. La prima volta che metti piede in chiesa? Prima volta che metto piede in chiesa era il 2008. Perché mi sa che noi ci siamo sbagliati, era 2005 quando tu parli di Adrià, io non ti volevo correggere, non mi permetterei mai, visto che sono bravissima a sbagliare in ogni data e figure. Però questo perché sennò non capiamo il tempo. E insomma, l'amore può questo. Irene ti ci porta, è una sana inquietudine, ti comincia a scavare. È vero? All'inizio appunto andavo nella sua parrocchia per vedere Irene. Ecco. E fino ad un giorno in cui mi ha scritto un messaggio, mi ha detto Dario oggi non serve che vieni perché sono ammalata. Allora la prima cosa che ho pensato è detto finalmente posso dormire di più una domenica mattina. Lì in quel preciso istante c'è stato qualcosa che ha cambiato la storia, che non mi sono mai spiegato, ma va bene così, non serve spiegarsi tutto, no? E nulla, da voglio andare a messa per vedere Irene a sai che sento il bisogno di andare a messa, ma non lì per vedere Irene, ma a messa nella mia parrocchia perché voglio andare a messa. Ma te lo sai quante mamme e nonne, ma pure papà, stanno piangendo in questo momento perché è quello che sperano per i figli quando noi diciamo vai a messa. Il padre eterno in un modo o in un altro si manifesta. Tu vai a messa perché senti il bisogno di andarci. E ci vai così, no? Vado a messa, non sapevo gli orari di apertura, però era una domenica mattina quindi pensavo fossero aperte. Arrivo quasi finita la chiesa, la messa, mi siedo in fondo e ero lì io seduto e guardando Gesù, non stavo guardando nessun altro, ascoltando nessun altro e nulla, stavo bene in quei 5-10 minuti che sono rimasto lì, porto a casa il foglietto per seguire le letture. Sentite questo. Torno a casa e ho detto vediamo cosa hanno fatto questi, visto che io non ho seguito nulla e leggo, mi metto in camera, chiudo la porta, dalla lettera di San Paolo, ma San Paolo è quello che nel 2005 Filippesi è lui, ma dal Vangelo, il Vangelo, che bello il Vangelo, il Salmo responsoriale è cantabile, che bello si può cantare anche. Ed era venuto fuori una cosa che non riuscivo a trattenere. La settimana successiva con questo foglietto ancora esaltato sono andato a casa dei genitori di Irene e di Irene per raccontarglielo. Ho parlato 40 minuti da solo con loro. Avete visto San Paolo cosa ha detto? Non mi guardavano malissimo. Ma come si fa? Come si fa a non innamorarsi di questi trabocchi, quelli che Don Marco Pozza chiama gli abbuati di Dio, non è vero senza la parola. Stati fatto, l'avete capito, e qualcosa arriva e la tua presenza in parrocchia diventa qualcosa di particolare. Tanto che hai necessità di farti seguire Don Alberico e il tuo parroco. Noi siamo andati a pizzicarlo con Antonella Ventre. Guarda qui che cosa esce fuori. Guardate, ascoltate questa storia. Che bello! Quello che è bello di lui è che ha fatto tutto questo, cioè questo studio, ma anche questa vita, l'ha fatta con grande entusiasmo e ha dato moltissimo a questa comunità con la sua generosità, con il suo entusiasmo e con la sua semplicità. È un episodio che mi è rimasto dopo tanti anni, mi è rimasto nel cuore, perché noi abbiamo fatto ogni anno campi scuola un po' ovunque nella nostra alta Italia. E uno di questi campi scuola li abbiamo fatto in Val Brembana, sopra Bergamo e naturalmente non siamo partiti in Pullman. Lui invece è partito in bicicletta. Io ci ho impiegato quattro ore e mezza per arrivare là. Lui purtroppo ha bucato lungo il percorso e aveva pochi soldi in tasca e si è fermato, è andato in un ristorante, ha chiesto se potevano accoglierlo perché si metteva a disposizione per lavare piatti, per fare qualsiasi cosa, per avere i necessari per mettere a posto la bicicletta e loro sorpresi e anche meravigliati di questo giovane, lo hanno accolto, gli hanno dato da mangiare, gli hanno dato anche da dormire. Lui ha potuto mettere a posto la bicicletta e si ha raggiunti, cioè proprio la spontaneità, l'umiltà, ma anche la grande capacità di affrontare le situazioni della vita difficili, faticose, con grande serenità e senso di abbandono alla provvidenza. Ho potuto imparare da questo ragazzo una cosa molto importante per la mia vita, cioè di saper vedere sempre negli altri il meglio che portano dentro di sé. Questo è il segreto di essere cristiani, guardare, ce l'ha detto ieri anche, ieri abbiamo parlato tanto, di guardare meglio il bello che Dio mette in tutti noi, anche in quelli più difficili da leggere, da scrutare nell'anima. Questo incontro con Don Alberico è stato un incontro importantissimo, anche perché il papà di Irene, che abbiamo lasciato nel salotto dove tu continui a parlare con loro, ti dice guarda che si può diventare cristiani anche da grandi, allora tu che fai? Appena mi hai detto questa frase, io incredulo, scappo da casa loro, ma letteralmente scappo, faccio il tragitto che conoscevo in memoria, casa di Irene, casa mia, ma mi fermo un po' prima di casa mia, nella parrocchia, parrocchia di cave. Fermo Don Alberico e la prima cosa che gli dico è, Don Alberico, voglio diventare cristiano. E lui mi guarda male, guarda molto male, nel senso che, non l'ha raccontato, ma mi guarda male perché si ricordava di me come quello che scavalcava il campo da calcio quando non c'erano gli allenamenti per giocare e veniva a mandarmi via dicendomi Dario rovini il campo, vai via. E allora... Senti quello, giustamente. E quindi aveva un ricordo negativo di me, no? Chi è? E io allibito di lui che stava indietreggiando, gli faccio Don Alberico, voglio diventare cristiano, la seconda volta molto più grintoso. Tu, Dario, no no vai via, non è un problema, ne parleremo, ma cosa dici? Terza volta arrabbiatissimo io. Don Alberico, voglio diventare cristiano, gli ho detto. Pensavo fosse una cosa molto più veloce. La terza volta era, Don Alberico, andiamo in chiesa, buttami l'acqua in testa, fammi diventare cristiano, veloce. Era il 2009, poche settimane dopo invece ho cominciato il cammino che è il come è nato. Perché lui ti dice, eh, attenzione calmino, proprio perché viva i preti che comunque ci fanno anche capire poi cosa significa questa veste nuova che ci mettono addosso. Hai fatto tutto il cammino, hai fatto il catechismo, vero? Perché te non sapevi nulla. Assolutamente. Io vorrei... Nonna se n'è andata da poco, vero? Sì, 23 novembre. Io guarda, io me la sogno in paradiso che si sta beando in questo momento. Pensate a quante lacrime questa donna ha tirato fuori per poter vedere te e semmai anche tuo fratello in chiesa. Guardate, questa è la preghiera silenziosa che è più potente di tutto. Il giorno del tuo battesimo cosa succede? Allora, spezzo una lancia a favore di mia nonna prima. Lei, dopo che io sono diventato cristiano e dopo che mio fratello, in anticipo un attimo, ha seguito quello che ho fatto io e poi ha detto, Dario, Daniele, io ho pregato Dio perché volevo rimanere in vita fino a che non vi avrei visti cristiani. Adesso posso anche morire, questo ha detto. Quindi è... Io ti porto a casa. Ora immaginate cosa succede a una famiglia in cui i genitori hanno nasciato liberi, i figli di credere, mamma comunque nata in una famiglia cattolica ma non praticante, papà di origini libanesi, nato in una famiglia musulmana ma non praticante neanche lui. Guardate cosa succede quando questo terremoto, questo ragazzo vi dice voglio diventare cristiano, come cambia anche la vita di famiglia. Guardate qua, ancora Antonella Venn. I genitori sono veramente un padre e una madre e quello significa lasciar liberi i figli, di credere, anche di cambiare fede naturalmente, di cambiare situazione se il cuore ti dà questa felicità. Fammi capire una cosa, Dario, a sto Dio che ti date? Come fai a decidere un giorno voglio essere cristiano? La lettura, quel passaggio, che cosa ti ha portato Dio? Allora, mi viene in mente Don Alberico, il giorno dopo il battesimo, era il sabato di Pasqua, il sabato santo, la mattina dopo sono andato nella mia parrocchia da Don Alberico per farmi conoscere la comunità, è desiderio di Don Alberico questo, e mi ha chiesto, Dario adesso che sei cristiano, come ti senti? Dopo aver rimandato per cinque settimane di fila una risposta a questa domanda perché non sapevo cosa rispondere, alla quinta settimana non potevo più scappare. Dario, dopo cinque settimane dal battesimo, come ti senti da cristiano? Mi ha chiesto. Mi è venuta in mente un'immagine che ha ricordato anche mia mamma, che dopo la sera del battesimo, dopo sabato santo, io non mi ricordavo nulla, mi ricordavo semplicemente che io abbracciavo persone a caso, ero davvero paralizzato in abbraccio, sorriso paralizzato, così, e saltavo, non riuscivo a star fermo. Allora gli ho detto a Don Alberico, Don Alberico io da cristiano adesso non riesco a star fermo e non riesco a smettere di sorridere, perché non sto parlando di una cosa bella, sono una cosa bella, sono cristiano e non posso parlarne così, perché sennò è come se qualcun altro raccontasse la storia al posto mio, gliela mando io via mail e lui la legge e le parole sarebbero le stesse mie, ma prima che con le parole non riuscendo a star fermi e non riuscendo a smettere di sorridere, è così che passi ad essere cristiano, una cosa bella. E quindi Don Alberico io da cristiano non riesco a star fermo. Hai fatto più tu di tante omelie, di tante prediche che a volte sono un po' indigeste, è bastato guardarti e ascoltarti per spiegare tutto quello che forse Papa Francesco ha scritto proprio ieri in questa nuova esortazione tutta destinata ai giovani. Tu non devi smettere di essere testimone di tutto questo. Dal Vangelo secondo Marco Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zevedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zevedeo nella barca con i garzoni e andarno dietro a Lui. Parola del Signore Parola del Signore Parola del Signore